I se vingotti quando che al cinema che se qualche film spintei diventa matti e la signorina pretore la che bagna il pancone Vigavisca, voglio Non può capire I se tutti innamorati della signorina pretore, come matti prima di tutto perchè la sei una bella puttella, vero? E il secondo, perchè la sei una donna che la fa il pretore e allora che parte di essere avanzati, evoluti, femministi Vigavisca, voglio Ma allora come ti ci da fare? E quella però la che fa vedere i sorci verdi Cosa è una disperazione E quel bigotone dello presti? Se la sua anima nera Quei due i se questi donnaletti spinti e quando che arrivano qui un po' sexy e se scatenano tutti e due come quando e brusava le streghe Dove va? Ehi, dove va? Ma no! Volevo pagarlo, ho usato per idea Ma è casa mia Avere un caffè, due pastarelli Ah vabbè, un caffè sì, ma le pastarelli